Amici di basquet siamo con Andrea Sanzi, dove dicevano che è stato lui a volere fortemente questo stranieri batti lì in confronto a San Padetto che dicevano a fare le stesse di basquet Sindaco, ripartiamo da qui, da una conferenza di basquet che diceva Sì, diceva una tradizione forte della pittugieria e del lavoro della palacanestra è ovvio che un palazzetto nuovo è un grande evento vorrei essere di buono specie per il tuo ricordo, magari il bello sicuro che questa sia una partita in grado di attivare forse riaccendere la fiamma della passione di basquet e trasformare le basquete in generale sicuramente accende il riflettore sulla città di Vegevano su questa struttura che è sicuramente di eccellenza quindi speriamo che questo sia in effetti così è un modo per fare nuove funzioni quindi per fare in modo che la disposta e la risposta e la risposta e la risposta e la risposta Vegevano Vegevano forse facciamo tornare la terza pallacanestra Vegevano Grazie